Piena 58, elemento energia, indovina un po'. Dai dai scambiamo, vai dai! Sì un attimo, sto andando a prendere le cose del deposito, sto ruffato l'ora. Fammi andare a prendere le cose del deposito. Ho fatto molti scambio materiale, hai rotto con le armi, cioè, qua mi fai ruffare con le armi. No, a me i materiali non mi servono, tengo i stack, cioè, che me ne faccia dei materiali. Ti passo da 400 di scaglia. Sì, mi chiamo Giocondo, dai vieni qua. Però teni troppo davanti, se no si attaccherebbero, no? Ma no, provo, dammene, oh, ma no, 400 di scaglia, eh, provo, provo, provo. 400 di scaglia, ah, anzi no, facciamo 201 di scaglia, per... 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 Pesa? Per quanto ti posso da? Minimo, dammi. No, io tengo, io tengo... No, niente di materiale, a me, non mi interessa di materiale. Non ti interessa di materiale, ok, scambiamo i robbi, dai. Vai, dammi, 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 dammi i permessi. Sì, aspetta, qua, qua. C'è una sorbida, no, niente. Cioè, per dire... Ti scambio, basta. Meno male che... Meno male che se due almeno 106. Sì, 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 per... Per 200 di scaglia, ti do questa furia del drago al 130 moddata, doppio elemento. Sì, infatti, eh. Ma, secondo te, lo vedo il doppio elemento. Ok, aspetta. Ti interessa, allora, questo? No, dimmi se questo è il doppio elemento, è il doppio elemento questo. Quello, non lo so, ma mi interessa proprio il nocturne in sé, quindi sì, dopo. Allora, fam. Ti do questo bulldozer al 130. Non tiene 0 di... Cioè, non ha per... E infatti al 20. È quello che ti ho dato io, bro. Al 20 scarica. Eh, eh, eh. Allora, ti do... No, ti interessa. No, io ti sto dando 200. Eh, però devi droppare anche... Oh, il permessi italiano. Io ti to dando 200. Ok, va. Per il nocturne, ho detto. Sì, troppa. Sì, troppa sempre prima io, quindi. Eh, no, guarda, sei leader. Che sei scemo, sì. No, no, sai, il nocturne non te lo scambio, te l'ho detto. Se vuoi ti posso dare per solo... Solo per 200 di scaglia. Anzi, 200 uno per vedere solo se mi truffi. Ti do questa furia del drago al 130. Eh, mi servono due armi, 130. O il nocturno o due armi. Quattro... Eh, 200 di scaglia. Allora ti do, ti do, ti do furia del drago al 130, più... Più ventri di raggio. Va bene. No, non mi interessa materiali, armi. 130, 106, minimo. Allora ti do. Allora ti posso dare un creatore... Un creatore di soli, sì dai, facciamo la collezione al 34. No, all'82, frago, se lo tengo. All'82. Bro. Eh, perché quello là sai da dove li ho presi, i truffandai truffatori, bro. Allora. Interessa. Tengo questo qua, creatore del soli, all'82, e sulla del drago. 130, 106. Minchia, fra non dove c'è uno al 106, aspetta. Ma anche il Nero Craft, me lo crafto. Mi servono... Dammi, dammi uno di arrugginite, uno di arrugginite, fa. Bro, posso dicermi una cosa? Ma che pro mi spende in giro? Sei pietaleghi, non puoi craftare 106, non puoi craftare 106, bro. Bro, non sono scemo, non sono scemo. Dai, no, 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 scambia. Tengo questo al 106. No, 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 no. Sì, prima dicevo 82, senti va a troppo. No, eh, questo qua, allora, questo qua, al 103. E poi? E ti posso dare... Qua, piuttosto da... E sta qua al 130. Perché non mi serve, perché... Cioè, tengo il progetto, ma non al 130, lo tengo al 20, quindi non... Come si chiama? Spada, tubo, avuto, elemento energia. Va bene, e poi mi da quella al 130, me lo ha l'alba al 130. E queste due, quindi? Sì. Trago, ecco. Dammi permesso. Vai, io mordo. Aspetta. Che sta a fare, oh? Oh, niente, è sto qua. 200 e 1. Apriam. Ah, meno male che me ne so ripresa 200 e là ce n'è solo uno. Meno male che ce n'è solo uno. Tanto il 200 ce l'ho io, lo sai, no? Eh, che... Ne hai preso uno. Ah! Bella. Calimo. Eh. So se non... Come...